Ci sono due modi per concepire la giustizia. C'è una giustizia, come dire, di tipo perequativo, che in tutte le culture sacre arriva di solito alla fine o dopo la fine della vita. Ed è l'unica giustizia possibile in questo mondo. Cioè, alla fine, in tutte le culture sapienziali, in tutte le vere religioni, tutti hanno saputo che i conti della vita si facevano alla fine. Soprattutto di fronte alle cose più misteriose. Perché uno ha 80 anni ed è in buona salute, è ricco, è circondato ad ogni piacere, e un altro muore di leucemia a 15 anni. Quale maggiore ingiustizia c'è nel mondo che questa? E l'umanità si è sempre dovuta confrontare con questa cosa. Compresa l'altra ancora più grave ingiustizia. Cioè che il fatto che non tutti hanno lo stesso corpo, non tutti hanno la stessa bellezza, non tutti hanno la stessa salute, non tutti hanno la stessa fortuna, non tutti hanno le stesse occasioni, non tutti sono più o meno intelligenti. Perché è vero anche questo. La maggiore forma di ingiustizia è il fatto che in una classe, al di là della buona volontà, voi vedete alcuni che fin da giovani sono super dotati e vanno come dei missili, altri che invece fanno fatica a fare uno più uno. C'è un'ingiustizia più grossa di questa? Ecco, a questa ingiustizia, che è la vita stessa, che ha a che vedere con la durata della vita, con la salute, con l'intelligenza, con il benessere, può porre rimedio soltanto alla dimensione del divino e del sacro. Il mio regno non è di questo mondo, come dice Gesù a Pilato, se il mio regno fosse di questo mondo, mio padre manderebbe dieci legioni di angeli per liberarmi, ma il mio regno non è di questo mondo. Invece questo mondo è di Satana in qualche modo. C'è un mondo nel quale la giustizia deve essere preventiva. Allora, per quale ragione in una classe tutti devono avere, come dire, di livelli differenti di performance? No, bisogna livellare le cose in maniera tale che nessuno possa far emergere le sue qualità. Perché tutti, come dire, non devono morire alla stessa età? E no, arrivata una certa età, bisogna fare un'eutanasia per liberare i livelli di morte. Perché tutti devono, come dire, decidere il partner sessuale sulla base della bellezza? No, bisogna che il partner non venga deciso da chi sceglie, ma venga deciso da un'autorità superiore. Il modello mondiale che ha cercato di applicare in maniera più scientifica questa cosa è stato il modello cinese, di cui vediamo oggi tutti gli orrori. Cioè il modello cinese più la tecnologia globalista dei Soros e dei Bill Gates ci dà l'inferno sulla Terra. Allora, la sapienza popolare ha sempre saputo fronteggiare questo delirio paranoico, di cui dirò adesso quali sono gli esiti finali. E infatti a Roma cosa si dice di fronte alle disgrazie della vita? Eh, lo chiedo a te. Chi gli tocca, gli tocca. A chi gli tocca... No, a chi tocca non s'ingrugna. No, appunto, a chi tocca gli tocca e chi gli tocca non s'ingrugna. Eh, certo. Capito? Chi gli tocca gli tocca e chi gli tocca non diventa cattivo. E questo è l'umanità. L'umanità si è difesa in questo modo, con questo linguaggio sapienziale. Poi ha accettato la logica del perdono. Chi ha dato, dato, dato. Chi ha avuto, avuto, avuto. Persino l'amnistia di Togliatti con le colpe dei partigiani e dei fascisti. Cioè, c'è un momento... Infatti gli ebrei, che erano molto saggi nell'antichità, avevano la festa del Giubileo. Ogni 50 anni il sommo sacerdote saliva sul tetto del Tempio, sognava, suonava i 420 lo Shoar, il corno di Toro e proclamava la fine di tutti i debiti di tutti con tutti. E questo consentiva la ripartenza dell'economia. E questo si chiamava Giubileo. Si chiamava Giubileo. Ed è quello che poi la Chiesa ha ripreso. Senza Giubileo non ci può essere un'economia di mercato. Senza perdono. Senza perdono non ci può essere civiltà. Senza amnistie non ci può essere giustizia. Senza amore non ci può essere la vita. La cultura dell'odio invece cosa dice? Noi dobbiamo programmarla alla giustizia. Allora, per programmarla alla giustizia noi diciamo che mettiamo un microchip nella testa di ognuno con una specie di minority report vedere se sta per fare un reato e sanzionarlo ancora prima che lo faccia. Dobbiamo plurivaccinarlo per livellarlo dal punto di vista della salute e della sopravvivenza. Nelle scuole dobbiamo applicare un meccanismo ergonomico, tecnologico di controllo delle intelligenze. Non dobbiamo che le persone siano libere di scegliere quanti figli fare, con chi farli, come farli. E dobbiamo invece permettere solo una cosa di sponsorizzare tutte le cose che bloccano la vita. E tutte le cose che bloccano la vita sono quelle che avete visto, comprese la cultura LGBT. Se voi analizzate bene cosa c'è alla base di tutti i pseudovalori che governano il mondo dei globalisti, c'è l'annientamento della vita al più possibile perché loro odiano la vita, perché la vita genera l'imprevedibilità, genera la libertà, genera il caos, genera il dono, genera il perdono, genera tutte quelle cose che chiamano in causa la libera coscienza e la consapevolezza delle persone. Mentre invece loro hanno bisogno di un algoritmo che governi tutto, di una centralina di eliti in cui loro decidono quello che vogliono fare. Se poi questa cosa coincide con i loro porci comodi, questo è l'ideale. Voi sapete che Bill Gates si è comprato metà delle Hawaii, dove la gente prima andava a fare surf, adesso ci può andare solo lui e credo che questi loschi personaggi siano molto arrabbiati dal fatto che il mondo è invaso da 8 miliardi di puzzoni che possono più o meno mangiare come mangiano loro, viaggiare come viaggiano loro, respirare come respirano loro, che loro hanno bisogno di elite chiuse e di un'orda di schiavi tecnologici, robotizzati, algoritmizzati, microchipati che obbediscono con un input esattamente come i loro computer ai loro sistemi. Infatti la cultura del virus, guarda caso, è la cultura del virus dell'informatica. Cioè, Bill Gates ha pensato di realizzare il mondo come una Microsoft. Così come i virus si aggiornano, si aggiornano gli antivirus. Così come i programmi si aggiornano e si autoaggiornano, bisogna autoaggiornare le persone. Noi però non siamo macchine, cari amici, siamo esseri umani che hanno in sé la scintilla di Dio, hanno in sé la scintilla della libertà, hanno in sé la scintilla del dono, in cui si dà anche quello che non si può restituire. C'è anche la scintilla del perdono, c'è la scintilla della creatività, della generatività. È quella che loro temono, perché questa frequenza d'amore che noi sentiamo nella pelle loro li terrorizza, perché gli dà la sensazione di perdere ogni controllo, innanzitutto su se stessi. È la cultura dell'odio del diavolo, del principe di questo mondo che dice a Gesù, portandolo sul pinnacolo del Tempio, guarda tutti i regni della terra, dimostrando quindi una certa loro disponibilità da parte sua. Tu i ginufretti di fronte a me e tutti i regni saranno tuoi. Ma Gesù cosa gli dice? Solo al Signore tuo Dio tu darai adorazione. Quindi noi che non ci inginocchiamo al principe di questo mondo, evidentemente, dovremo lottare contro questi satanassi e le loro logiche malate molto lunghe. logiche malate che vengono sempre vestite da giustizia. Come quando Gesù dice a Gesù dopo che la peccatrice gli ha unto di piedi il nardo con l'olio che costava 300 denari, non sarebbe stato meglio vendere quest'olio che è stato versato sui piedi e darlo ai poveri? Lo dice Giuda che è già in preda satana con una logica di pseudo giustizia, come lo farebbero i nostri farisei. Capito? Però Gesù dice i poveri li avrete con voi per sempre mentre lei ha talmente amato che è venuto a farmi l'unzione degli infermi e della morte prima ancora che io muoio. Ci ha fatto prevalere la logica dell'amore e la logica del dono. Qui noi alziamo la bandiera della logica dell'amore e del logico del dono perché è la frequenza che gli fa bruciare l'anima a questi diavoli. Grazie a tutti.